Sì, avevamo l'obbligo di riscattarci dalla scorsa edizione dove siamo usciti in maniera diciamo senza lottare contro il Pressano, oggi ci teneremo tantissimo, abbiamo trovato secondo me una delle scuole più ostiche perché giocano veramente un'ottima palla a mano moderna fatta di velocità e forza in difesa, abbiamo giocato bene soprattutto in attacco, forse doveva migliore un po' in difesa, però per noi non era facile entrare subito e giocare contro questo Trieste, ci siamo riusciti e ora pensiamo a domani che ci aspetta un'altra battaglia. Purtroppo abbiamo fatto un'ottima partita dal mio punto di vista, difensivamente bene, in attacco purtroppo abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, forse più nel secondo tempo, bene il primo, ma abbiamo giocato bene noi, abbiamo giocato bene il Fezano.